Un saluto a tutti Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Non si fanno i vaccini Si fanno a Pesaro e a Gradara Noi siamo contenti Però qui è un vaccino di oltre 50.000 persone Soprattutto le persone anziane Perché devono andare a fare i vaccini A Pesaro e a Gradara La riteniamo un'assurdità Io ho scritto sei lettere L'ultima della quale al Presidente Aquaroli E all'Assessore Saltamartini Per dire che in questa Casa della Salute bisogna fare i vaccini Bisogna ripristinare la Guardia Medica E bisogna tenerla aperta Il sabato mattino La Regione dialoghi con i medici Trovi la disponibilità Dei medici per fare i vaccini Qui alla Casa della Salute Che è il luogo dove dovrebbero stare Tutti i medici Pediatri, medici di medicina generale E tutta la specialistica Cioè tutto quello che non è ospedale Che quando uno ha necessità È costretta ad andare O anche uno A Pesaro O Urbino Molti dei quali vanno in Emilia Romagna Significa anche dare i servizi qui Evitare che molta gente Che va in Emilia Romagna Che costa una barca di quattrini Alla Regione Significa anche un risparmio Noi come Comune di Monte Calvo e Foglia Siamo di un altro ambito sociale Siamo sull'ambito sociale di Urbino Però siamo confinanti Vicinissimi a Vallefoglia E questa esigenza di avere Più punti vaccinali È importantissima per la popolazione E bisogna in questo momento Dove comunque la pandemia Sembra risvegliarsi E c'è esigenza e richiesta di punti vaccinali Io penso che sia necessario e urgente Aprire questo punto vaccinale Che può servire un bel bacino di cittadini Compresi quelli del mio comune Io sento che il cittadino si lamenta Della non possibilità di andare in tempi brevi Ad effettuare la vaccinazione E perciò più punti abbiamo Che possono coprire il territorio Viene bene per tutti Ma anche per contrastare questa pandemia Che abbiamo bisogno di metterci un punto Riprendere la nostra vita normale Abituale senza problematiche Per il nostro comune La guardia medica è sempre stato un punto Di riferimento ed una certezza Negli ultimi anni E in questo momento Trovarcene sprovvisti È una gravissima mancanza I cittadini giustamente Si chiedono perché la regione Non garantisca loro Un servizio che invece era sempre stato presente Negli anni precedenti Quindi la priorità Per quello che riguarda Gli interventi decisi Dalla regione in questo momento Sicuramente la riapertura Della guardia medica di Gabice Che è sempre stato un servizio funzionale Apprezzato E un punto di riferimento Per la cittadinanza E sempre a Vallefoglia Lunedì pomeriggio Intorno alle ore 16.30 Nella zona di Montecchio È scoppiato un incendio All'interno delle cappannone Della ditta Paolini Telemaco In Evia Arena 10 L'inconveniente che ha colpito la ditta È stato scatturito Da un surriscaldamento Di due presse Che erano presenti All'interno dello stabilimento E che ha causato Anche la distruzione Di 10 quintali di pannelli Rivestiti nel legno Caricati sui bancali In attesa dell'arrivo Dei vigili delle fuoco Arrivati sulle posto Con tre squadre E un'autoscala Sono intervenuti Gli operai che erano di turno E che hanno cercato Di limitare Il divampamento Delle fiamme E parliamo ora Di nuove strutture Visto che Nei giorni scorsi A fianco della scuola Elementare E materna Di Bottega Sono partiti Ufficialmente I lavori Per la realizzazione Del nuovo teatro Cinema e auditorium Giovanni Santi A spiegare L'importanza E la centralità Di questo edificio Ci ha pensato Il sindaco Di Vallefoglia Palmirucchielli Partono i lavori Qui in un polo scolastico Dedicato al contrasto Alle mafie Alla malavita organizzata E il teatro Giovanni Santi E la ciliegina Sulla torta Diciamo Perché sarà Un teatro Di 330 posti Al servizio Delle scuole Di Pian del Brusco 1300 ragazzi Tutti grandini Perché prima Seconda Terza media E poi delle scuole Elementari Materne E sarà un teatro Certamente Di Vallefoglia E certamente Prima di tutto Per le scuole Ma anche per Le bande I cori Le compagnie Dialettali I gruppi musicali Le scuole di musica Perché la scuola Di musica Di Pian del Brusco Metà di quei 1300 ragazzi Sono di Vallefoglia Quindi E poi sarà Un teatro Che consentirà Nella rete I teatri marchigiani In quest'area Dove esistono Pure in 4-5 comuni Oltre 50.000 abitanti Finalmente Avranno un teatro Certamente Non come Rossini Opera Festival Non come Il teatro di Fano Però un bel teatro Teatro sobrio Dignitoso Un luogo Per La musica Per il cinema Per il teatro Per le attività Culturali Sociali Teatrali Per tutte le Evenienze Qui siamo Alle mie spalle A un tiro di schioppo Dal polo scolastico Di Pian del Brusco Dalla piscina Da tutti quelli Che frequentano Quell'area Che sono tantissimi E finalmente Vallefoglia Avrà anche Il teatro Quali saranno I materiali Che verranno utilizzati E quanto tempo Ci impiegheranno Per ultimarlo Diciamo che Hanno un annetto Di tempo Se tutto va bene Nella primavera 2023 Cioè tutto Il 2022 Perché ormai Siamo a Natale Potremmo avere La possibilità Di iniziare A utilizzare Questo teatro Cominceremo A pensare A breve Anche alla gestione Al funzionamento E in prefabbricato Quindi tutto sommato Dovrebbe essere una struttura Anche più agevole Per realizzarla Speriamo bene Insomma Che si possa avere Diciamo Per il prossimo estate Il nuovo comune E per l'altra primavera Il nuovo teatro E in settimana La giunta comunale Di Vallefoglia Ha approvato Il piano neve Per l'anno in corso Oltre al sistema Di allertamento In caso di necessità Derivante Da condizioni Meteorologiche avverse Il servizio Di spazzamento Delle strade Spargimento delle sale È stato predisposto Dividendo il territorio Di Vallefoglia In cinque zone Per intervenire Più prontamente Montecchio Zona Monte Montecchio Zona Valle Sant'Angelo Inelizzola Bottega E Morciola Oltre a Talacchio E Colbordolo Sono queste Le cinque aree Che sono state Distinte Alle fine Di assicurare Maggiore viabilità Alle strade comunali Di collegamento Con quelle statali E provinciali E torniamo ora A parlare Dell'emergenza sanitaria Riguardanti le Covid-19 Visto che Il numero Dei contagi In particolar modo Per le zone Confinante Con la Romagna Sta risalendo Prepotentemente Una situazione delicata Per questo territorio Dettata soprattutto Da una percentuale Inferiore Di persone Vaccinate Rispetto alla media Come lo stesso Sindaco di Tavuglia Francesca Paolucci Ha ammesso Ai nostri microfoni Sentiamo Il distretto Di Pesaro E dei comuni Confinanti Tra cui anche Tavuglia Ha registrato Il 58% Degli infettati Di tutta la provincia Un dato Venuto fuori Settimana scorsa Ci può fare Un punto Della situazione Allora I contagi Sono aumentati Ogni giorno Ne vediamo Dieci in più Fino ad arrivare Circa Un'ottantina In questi momenti Sono numeri Che vedevamo Nella prima Ondata Della pandemia Quindi sono numeri Molto alti E' chiaro Che la differenza Poi è notevole Perché oggi Viviamo Normalmente Quindi tutto Non c'è Non stiamo vivendo Il lockdown Della Della primi Mesi Di questa emergenza Sanitaria Dobbiamo cercare In tutti i modi Di limitare La diffusione Del contagio E chiaramente Questo lo possiamo Fare Sia adottando Sempre Tutti I comportamenti Che ormai Fanno parte Delle nostre Abitudini Come la mascherina Anche Anche fuori Che all'aperto Quando vediamo Che le situazioni Di distanza Tra le persone Non possono essere Rispettate Ma anche Con la vaccinazione Devo dire Che oggi Abbiamo dei dati Statistici Non siamo più Ai livelli Di un anno fa Quando fare il vaccino Poteva essere Così Una Una fiducia Oggi I dati Della statistica Ci dicono Che Il vaccino Ci ha permesso Di tenere aperto Di andare a scuola Di frequentare I locali E quindi Di svolgere Una vita Per quanto Possibile Insomma Normale C'è stato Il camper vaccinale Da noi a Tavuglia E su 82 Vaccini Fatti Devo dire Che sono Un numero Importante 31 Erano prime dosi Quindi voglio dire Ancora c'è Tanta gente Che Deve fare La prima dose Del vaccino E continuando A parlare sempre Del territorio di Tavuglia È stato annunciato In settimana Che In collaborazione Con la Proloco Fogliense E l'Avis Di Tavuglia Il magico Trenino di Babbo Natale Riprenderà Scaldare i motori Anche per quest'anno Saranno Sabato 18 E domenica 19 dicembre I due appuntamenti Ne cui Il treno di Babbo Natale Accompagnato Da alcuni elfi Porterà Un dolce regalo Ad ogni bambino Sabato La partenza È prevista Per l'ore 16 Dario Salso Che poi Proseguirà Per case Bernardi E Padiglione Fino ad arrivare Intorno alle 19 A Belvedere Fogliense Nella giornata Di domenica Invece La partenza Sarà sempre Fissata Alle ore 16 Ma data Vuglia E proseguirà Il suo tour Fino ad arrivare A Babuze Verso le 18 E 30 E come di consueto Concludiamo Questa nostra edizione Delle Vallefoglie Piano del Bruscolo Magazine Parlando di sport E iniziando Parlando di palavolo E quindi Della Megabox Vallefoglia La squadra Allenata Da coach Bonafede È stata sconfitta Sabato sera Per 3 7 a 0 Da Novara Un impegno Proibitivo Per le Tigri Di Vallefoglia Che erano Bene consapevoli Di quanto fosse Complicato Strappare un risultato Positivo Dalle campo Delle seconde In classifica In programma Invece Per sabato sera Al pala Canaroli Urbino Un altro match Complicato Che vedrà la Megabox Ospitare Scandicci Passiamo ora Alle calcio locale Partendo dalle campionato Di eccellenze Dell'Atletico Gallo Colbordolo I rosso-blu Con il risultato Di 0 a 0 Sono andati incontro All'ennesimo pareggio Stagionale Portando a casa Un solo punto Della trasferta Di Porto Sant'Elpidio In promozione Invece Due vittorie importanti Per il calcio locale Risultato rotondo Per il case Porto Montecchio Che ha strapazzati In casa L'Atletico Mondolfo Per 4 a 0 Successo di misure Invece per Ile Valfoglia Che ha trionfato Sulla Fermignanese Per 2 a 1 In prima categoria Invece Continua la striscia Negativa Dell'Osteria Nuova Che dalle match Di sabato Contro il Fermignano Calcio È uscito sconfitto Per 1 a 0 Filotto positivo E terza vittoria di fila Raggiunta Per l'Atletico Tavuglia Che tra le muramiche Ha battuto Una nuova Real Metauro Per 3 a 2 E con lo sport Si conclude Questa nostra Nuova edizione Delle Valle Foglie Il Pian del Bruscolo Magazine Io come sempre Vi ringrazio Per essere stati con noi Qua su Rossini TV Vi rinnovo L'appuntamento Venera di prossimo Le 17 di dicembre E vi auguro Buon proseguimento di serata Grazie a tutti 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 Autore dei sovrapposti